Tre arresti e sette denunce. È questo il bilancio dei controlli a largo raggio effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fano nel corso di un servizio straordinario di monitoraggio del territorio. Un 43enne della provincia di Viterbo è il risultato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e occultamento di documenti contabili. L'uomo è stato portato nel carcere di Pesaro. Sempre su ordine di carcerazione una trentenne di cartoceto è stata posta ai domiciliari per furto aggravato mentre un 42enne di Marotta è stato condotto nel carcere di Villa Fastigi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità materiale. Una fanese di 22 anni invece è stata controllata in compagnia di altri tre coetanei in via Fratelli Zuccari in località Baia Metauro. La ragazza è stata trovata in possesso di 13 grammi di marijuana mentre un giovane ventenne di cartoceto è stato trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati denunciati. I carabinieri poi hanno sorpreso un fanese di 46 anni a bordo di una BMW X3 in evidente stato di abbrezza alcolica. Il mezzo procedeva a zigzag lungo via Roma. Inutili i tentativi dell'uomo di giustificarsi così come inutile è stato il rifiuto a sottoporsi all'alcol test. Una condotta con la quale viene applicata la massima delle sanzioni oltre al ritiro della patente e al sequestro del mezzo. Infine un giovane forse empronese di 31 anni dopo essere uscito fuori strada con la sua Mazda 3 a Pian di Rose di Sant'Ippolito è andato a sbattere contro un camion in sosta. Anche per lui tasso alcolemico sopra il limite. La patente gli è stata ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. In più sono scattate le multe covid essendo stati sorpresi ben oltre il limite serale stabilito dal coprifuoco.